C'è anche Gaetano Liberti, medico originario di Pratola Pellinia, tra i destinatari dei quattro provvedimenti cautelari per la vicenda dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno. Liberti, assieme ad altri tre, è accusato di aver pagato mazzette e aver scavalcato liste di attesa lunghissime. Il medico originario di Pratola Pellinia è finito agli arresti domiciliari. Coinvolto nella vicenda anche il neurochirurgo Takamori Fukushima, che nell'ottobre 2015 venne accostato da un quotidiano a Papa Francesco per una presunta visita medica, subito smentita dalla Santa Sede. Secondo quanto riporta il Fatto Quotidiano, le indagini sono state avviate nel mese di maggio 2015 dopo la denuncia presentata ai carabinieri dal parente di una paziente ricoverata, sottoposta a un intervento alla testa e poi deceduta. Secondo la denuncia, l'operazione chirurgica era stata preceduta all'avversamento di una somma in denaro per accelerare i tempi in lista d'attesa.